Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Angolo serie C, era da un po' di settimane che non riuscivo a occuparmi di quello che è uno dei miei campionati preferiti. Guardo qualche partita, ma lo faccio talmente in ritardo che poi uscire col video sarebbe totalmente inutile. Anche qui avrei voluto in realtà uscire questa mattina, non ce l'ho fatta per problemi organizzativi. Vi parlo della sfida di ieri tra la Casertana e il Foggia, una gara che attendevo molto perché due squadre, il Foggia è una delle squadre che segue di più nel campionato di Serie C, la Casertana viceversa è una rosa molto interessante e in un momento veramente tanto positivo questa gara era molto molto accattivante per uno spettatore neutrale. Come sapete la Casertana ha vinto ancora, 2-1 il punteggio finale, un risultato che la proietta al terzo posto con 30 punti e soprattutto la settimana prossima grandissimo big match contro il Picerno in una sfida per il secondo posto in classifica all'inseguimento della Juve Stavia. Per il Foggia invece una brutta sconfitta che testimonia un momento complicato per gli uomini di Cudini, dodicesimo posto con 21 punti. La classifica è molto stretta, come la Serie B di una volta bastano un paio di vittorie per andare a lottare per le posizioni alte della graduatoria e con un paio di sconfitti si rischia anche magari di essere risucchiati invece verso posizioni più complicate della classifica. Foggia settimana prossima attesa da una gara molto importante come quella contro il Potenza. Foggia che ha deciso di entrare in silenzio stampa dopo questa sconfitta per concentrarsi al meglio come da comunicato in attesa di questa partita. Foggia devo dire non mi ha fatto una buona impressione. Sicuramente i meriti della Casertana sono superiori ai meriti del Foggia. La Casertana è una squadra veramente ben schierata in campo, un bel mix, giocatori di grande esperienza anche nella categoria superiore, guidati lì davanti da un montalto bomber straordinario e grande capacità anche di uomo squadra. Ha tornato affiancato da Curcio e da Tavernelli che fanno un gran lavoro. In mezzo al campo Proietti, voi sapete che seguo molto la Ternana nel canale, Proietti è sempre stato uno dei miei giocatori preferiti e l'ho trovato veramente in grande forma. Nella Ternana faceva un ruolo anche un po' più di rottura, qui invece ho trovato una grande regia, anche tanta legna in mezzo al campo ma anche la capacità di sviluppare rapidamente il gioco. Il giovane Matese ha fatto anche una, anche lui è stato autore di una grande prestazione, dietro la difesa sicura, sia Sciacca sia Ciliento, anche se poi nella rete finale del Foggia, nella ripresa, forse un po' di responsabilità anche Ciliento che si fa proprio anticipare da Schenetti. Il portiere Venturi sicuro in apertura di ripresa quando il Foggia ha cercato di cambiare subito la gara che era già sul 2-0 perché la Casertana è andata all'intervallo in chiaro vantaggio di due reti in un primo tempo nel quale gli uomini di Cangerosi hanno sicuramente fatto molto bene il proprio dovere mettendo alle corde un Foggia che non è mai riuscito ad uscire, un Foggia che ha faticato un po' in ogni reparto. Personalmente lo vedremo poi nelle pagelle ma credo due, forse due giocatori e mezzo sufficienti nel Foggia. Il portiere Nobile che magari nell'occasione del primo gol ha proprio lasciato lì il pallone davanti alla porta però un po' come nell'hockey il primo intervento del portiere e poi nell'altro devono essere i difensori anche un po' più reattivi e invece Riccardi ha perso nettamente il duello contro Montalto facendosi sorprendere in occasione della rete del 1-0. La rete del 2-0 è un bolide da fuoriare di Curcio in chiusura di tempo sul quale credo non potesse fare nulla. Nobile, il rinvio di Garattoni è piuttosto sfortunato, un Foggia che ha faticato un po' in ogni reparto nella difensiva anche Salines che all'inizio stagione era uno dei giocatori sempre più emotivamente coinvolti e più pronti, ha trovato una giornata difficile. La difesa centrale, sia Riccardi sia Carillo hanno fatto fatica, ha lo stesso Garattoni una giornata complessa in mezzo al campo male, Marino spazzato via dal centrocampo della Casertana, qualcosina forse di più Martini ma stiamo parlando comunque di due prestazioni poco appariscenti. Frigerio ha avuto la chance di aprire la gara in apertura di secondo tempo, di riaprirla ma Venturi è stato molto bravo su di lui quando Cudini aveva operato due cambi che hanno inciso positivamente nella squadra e mi viene il dubbio ma è una squadra che può fare meno di due giocatori come Peralta e soprattutto Schenetti in questo momento il Foggia, non so perché i due giocatori nettamente migliori sono anche due giocatori di esperienza. quando sono entrati in campo nel secondo tempo hanno sicuramente contribuito a cambiare quantomeno l'approccio del Foggia. La gara ok era indirizzata a favore della Casertana e che ha potuto comunque avere anche chance poi più volte di trovare anche la terza rete. È stato bravo, nobile in più di un'occasione nel secondo tempo però sicuramente soprattutto Schenetti ha dato molta molta pericolosità lì davanti, ha anche un po' di combattività, un po' di animo un pochino più sanguigno diciamo a una sfida che il Foggia mi è parso invece perdere in maniera anche emotiva, in maniera netta sfilacciandosi troppo. Ora la situazione è sicuramente complessa, una squadra riduce dal sogno dello scorso anno, da quel playoff fantastico rovinato nel finale dall'Ecco e da Buonacina e la speranza poi durante l'essata di tornare in Serie B e ora invece questo risveglio con un campionato complesso, veramente, è una situazione di classifica che ok è una stagione ancora molto lunga però bisogna fare un po' chiarezza, anche questi continui cambi di modulo, di formazione di mister Cudini mi lasciano un po' perplesso così come le scelte stesse di formazione per quanto, come si dice sempre, come è la verità, è facile parlarne qui da casa tranquillo dopo aver visto la partita e non si è lì al campo a vedere gli allenamenti come sono a sentire la forma dei giocatori, però ovviamente sinceramente vedere giocatori così messi in campo troppo tardi che incidono così sulla partita invece come sono stati due subentri della ripresa mi lascia qualche dubbio. Partite da seguire, interessanti due squadre che credo saranno protagoniste comunque in questo campionato a Casertana mi è veramente piaciuta, mi attendevo molto e devo dire credo di averlo anche visto, una gran prestazione sugli incidenti, peccato, peccato davvero che nell'intervallo abbiamo avuto questa problematica con questo scontro tra i tifosi che ha creato tanti problemi, ci sono dei feriti, la gara è iniziata molto tardi anche nel corso della ripresa e questo è sempre piuttosto amareggiante, vedremo poi le decisioni che prenderà il giudice sportivo, rimanendo al campo Casertana nettamente, cioè che ha vinto con grande merito, anzi 2 a 1, quasi un punteggio troppo stretto rispetto a quanto gli uomini cangerosi siano stati positivi e migliori rispetto a quello di Cudini. Fatemi sapere ragazzi un po' cosa ne pensate di questa partita e delle possibilità magari anche della Casertana di potersi inserire nella lotta per la promozione in Serie B, una serie che manca ormai da una trentina d'anni a Caserta, però questa squadra credo che possa avere ambizioni anche di fare molto bene dal Foggia, niente, mi aspetto molto di più, voglio vedere una reazione perché credo non è questa la posizione che il Foggia deve avere e soprattutto non è questo neanche il tipo di calcio, di approccio che mi aspetto da parte della formazione rossonera. Veniamo alle pagelle, 7 a Venturi, 6 e mezzo a Carapai, 6 e mezzo a Celiento, 7 a Sciacca, 6 e mezzo ad Anastasio, 6 e mezzo a Matese, 7 e mezzo a Proietti, 6 e mezzo a Toscano, 7 a Curcio, 7 a Montalto, 7 a Tavernelli, 7 a Mister Cangerosi, per quanto riguarda il Foggia, 6 a Nobile, 5 a Garattoni, 4 e mezzo a Riccardi, 5 a Carillo, 5 e mezzo a Salines, 5 e mezzo a Martini, 4 e mezzo a Marino, 5 e mezzo a Vezzoni, 5 e mezzo a Frigerio, 5 e mezzo a Tonin e Embalo, 4 e mezzo, male a Embalo, piuttosto male, 7 a Schenetti, 6, 6 più a Peralta, che non è stato così bene, ha fatto così bene come potrebbe, come sa fare, ma è stato sicuramente più positivo di altri, 5 a Cudini, 6 e mezzo all'arbitro Bordini, iscrivetevi al canale, attendo i vostri commenti, se li ecci ancora anche nelle prossime giornate sul nostro canale. Intanto, ciao a tutti, un bacio e alla prossima da Lox, ciao!